Cari ragazzoli, la Lazio continua a vincere e questa volta non si può adottare nemmeno la scusante del rigorino per dire Lottito, Lazio, Mafia, cazzate varie del caso, perché così funziona. Quando una squadra sta in alto è sempre grazie a qualcuno o qualcosa, ma stavolta almeno in questa partita il giochino non va bene, non va bene nemmeno per l'ennesimo gol di Immobile che fa una vagonata di gol, basta leggere lo score dei gol che lui ha segnato in Serie A, no ma non va bene lo stesso perché segna solo sul rigore ovviamente, beh ci mancherebbe altro. Però in questa partita no, no vabbè, questa partita diranno che la Lazio ha vinto a culo per il gol di Parola. Tutta Stambaradam per dirvi diamo i meriti a chi li ha senza stare lì troppo a rosicare, la Lazio porta a casa l'ennesima vittoria, la Lazio conquista gli ennesimi tre punti e complimenti alla Lazio per il percorso che sta facendo. Questo lo dirò sempre perché, perché poi quando vedi il primo gol di Immobile in questa partita qua, vedi tutto il valore della Lazio e intendiamoci qual è. La solita verticalizzazione perfetta, perfetta di Luis Alberto. Ecco, verticalizzazione perfetta, movimento di Immobile perfetto, tiro ad incrociare su pallo lontano, gol. Bene, bene, voi la vedete una roba ormai facile, la vedete ormai una roba scontata. Il problema è proprio perché Luis Alberto sta roba qua te la fa talmente bene, te la fa talmente tante volte che ormai è una roba sorpassata. Invece no, è lì che ci sta tutto il valore della Lazio, in quella giocata là, nel movimento di Immobile e nel gol fatto. E questo lo fai grazie ad un modulo preimpostato per bene, grazie a dei giocatori che si muovono all'unisono e poi ti ritrovi ad avere i punti che hai. Senza che stiamo lì troppo ogni volta a fare racconta sui rigori dati, su quelli subiti, perché l'abbiamo visto, oggi la Lazio si è ritrovato a subire un rigore che, figlio mio, uno di quei rigori che dici come al solito, eh ma da regolamento ci sta, poi vai a vedere, cioè ma è così, da regolamento ci sta i nostri rigori. Ma questi sono rigori, sono rigori, sono rigori, ormai sono rigori, sono rigori, come la vera quello di che sei tu, rigore, sono rigori, sono rigori, simulazione o non simulazione, sono rigori, sono rigori. Ormai funziona così, però quando poi la squadra che fa, che sul campo macina gioco, macina calcio, poi puoi stare là a parlare di quello che ti pare. E' anche vero che dall'altra parte troviamo un Torino che pare che ormai al Torino gli puoi concedere quello che vuoi, ma il Torino, figlio mio, mi dispiace, mi dispiace per gli amici di Torino, mi dispiace tantissimo, ma li vedo male, male, male. Li vedo male, 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 male. Ogni volta quando parlo del Torino ripeterò la stessa roba, però, ma veramente c'era chi pensava che il problema fosse l'allenatore? Ma veramente c'era chi pensava che il problema fosse Mazzarri? Io ogni volta che parlo del Torino pongo sta domanda, ma la pongo veramente ogni volta. Ma davvero? Uno che nella scorsa stagione aveva portato la squadra a sesto posto, ma davvero era colpa di Mazzarri? Ma io vi chiedo ancora una volta, ma davvero? Ve lo richiederò ancora una volta, ma davvero era colpa di Mazzarri? Non scherziamo, non scherziamo, non scherziamo, non scherziamo. E il Torino è una roba che non si può vedere. Il Torino è una roba che non si può vedere. Si è giocata a una porta sola per 95 minuti, si è giocata a una porta solo. Oddio, tengo a continuare a confusione. La Lazio non è che abbia avuto tutte queste occasioni, però la Lazio ha fatto la sua partita. Cross, cross, dalle di ridalle, dalle di ridalle. Perché dico che il gol di parola comunque non è fortuna? Perché se giochi a una porta sola, in un modo o nell'altro, prima o poi la palla comunque ci va dentro. Ci va dentro, ci va dentro. Questa è la ragione. E ci è andato proprio quella più fortuita. Ma la Lazio ne ha avute di occasione. Quindi di cosa stiamo a parlare? A me piace dare i meriti a chi le ha. La Lazio è una squadra che i meriti le ha e le ha è come. Punto, stop. Non aggiungo altro e faccio i complimenti alla squadra laziale. Detto questo, andiamo a vedare la Juve che combina. Andiamo a vedare la Juve che combina. Un grande abbraccio. Daneschio, ragazzone, un grande abbraccio. Grazie a tutti.